aveva presentato personalmente Davide Nicola ha voluto fare altrettanto oggi per il primo giorno in grata di Filippo Inzaghi il presidente Danilo Iervolino insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan e al direttore sportivo Morgan De Santis ha presentato Filippo Inzaghi scelto come successore di Paolo Sosa sarà Inzaghi a dover portare la Sanitana lontano dalla zona retrocessione il cinquantenne tecnico piacentino ha sottoscritto un contratto fino a giugno senza opzioni e clausole salvezza è stata questa una sua precisa scelta Iervolino ha voluto parlare del mercato del rapporto inclinatosi con Sosa del progetto relativo al centro sportivo ed ha precisato che la Sanitana è disposta a trasferirsi al Volpe per favorire il progetto della regione per lo stadio di Arecchi che parole del patron sarà il più bello di Italia una volta realizzato carico determinato ma anche voglioso di rispondere a critiche da punti mostri superato il patron ha mostrato grande convinzione e fiducia ci salveremo ha detto Iervolino la palla ora passa a Pippo Inzaghi perché è stato scelto mister Inzaghi perché innanzitutto crede fortemente in questa rosa crede nel valore di questa rosa e crede fortemente che questa rosa debba salvarsi così come è costruita ha esperienza voglia di fare bene alla mentalità del vincente il record man di gol fatti in Europa tra gli italiani ha fatto delle cose straordinarie dentro e fuori al campo e quindi alla giusta mentalità alla giusta concretezza e semplicità per fare le cose giuste io non entrerò nel merito del del perché o sarebbe da ingrato quello di non ringraziare mister Sosa per il lavoro fatto e non entrerò assolutamente nella polemica sul fatto che mister Sosa si era proposto al Napoli né sul fatto che ha delegittimato la squadra dicendo che era meno forte e anche me e il gruppo dirigenziale o che ha dichiarato che avevamo giocatori sconosciuti e né che abbiamo fatto scelte per lui non condivisibili non mi faccio trascinare da queste polemiche non le riprenderò assolutamente non le commenterò evidente che per me la cosa più importante è lo era prima e lo è ancora oggi oggi più che mai il risultato sul rettangolo di gioco mister Sosa non è più allenatore della salernitana perché non avevamo i risultati sperati guardavo il telefono ogni momento aspettavo questa chiamata proprio di questa società di questo presidente poi ho conosciuto Morgan lo conosco da una vita ho conosciuto i suoi collaboratori io il mio staff finalmente possiamo tornare a lavorare come ci piace quando è successo i risultati sono arrivati e comunque ce la metteremo tutta poi per ultima cosa fatemi fare un in bocca al lupo a Sosa perché quando a me è successo di vincere è successo anche di essere stato esonerato so cosa passa nella testa di un allenatore per cui gli faccio un grande in bocca al lupo perché secondo me ha fatto molto bene e cercherò con tutto me stesso di salvare questa squadra di valorizzare questi giocatori perché se sono qui è perché credo ciecamente di potercela fare però quello che diceva il presidente secondo me è giustissimo abbiamo bisogno di voi insomma se la salernitana retrocede penso che retrocediamo tutti e questa volta non ce lo rendiamo conto perché abbiamo bisogno del vostro aiuto vi chiedo che se dovete criticare ferocemente fatelo con me io le spalle larghe sono criticato da 30 anni ho detto oggi al presidente che ho fatto 300 passa gol e mi criticano ancora adesso che non sapevo stoppare per cui di non preoccuparsi delle delle critiche perché poi quello che conta è che quando andiamo in giro la gente ci apprezza per quello che abbiamo fatto per cui se potete aiutate i miei giocatori i nostri giocatori perché hanno bisogno di affetto del vostro aiuto non parlo del pubblico perché è stata oltre alla società la cosa che mi ha fatto venire qui perché quando ho giocato alla rechi che ricordo la mia prima doppietta in nazionale con la spagna l'ho fatta proprio in questo stadio quando venivo a giocare qui quello che mi colpiva e quello che mi preoccupava era giocare in uno stadio dove nel riscaldamento non riuscivo neanche a parlare con i miei compagni dal tifo dalla passione e questo deve essere la nostra arma in più vedere a Monza tutti quei tifosi della serenitana io vivo ancora di sogni vivo ancora di tifosi andavo quando ero giovane in curva so cosa si passa so che si vive tutta settimana per la squadra però in questo momento non abbiamo bisogno di critiche a me fatele perché ho le spalle larghe so che quando sono allenatore vincerò capirò tutto quando perderemo non capirò niente ma io riesco a sopportare i nostri giocatori visto che ci sono dei giovani molto bravi bisogna aiutarli ecco grazie 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 grazie